Quest'oggi parliamo di un filato davvero prezioso, pregiato, una sorta di tessoro. Il Genesis, composto dall'oro bianco dell'Egitto, ben mixato alla seta. Ciao a tutti, bentornati in Tessiland News, analizziamo nel dettaglio il nuovo arrivato in casa Tessiland Genesis. Eccolo il nostro 100% made in Italy Genesis, composto per il 75% cotone egiziano e 25% seta, seta che possiamo chiaramente vedere all'interno di questa lavorazione, vista proprio resa visibile perché è appunto bianca. Quindi mi raccomando non vedetela come un difetto perché appunto è semplicemente la seta che compone questo meraviglioso, morbidissimo e pregiato filato. Si presenta così in gomitoli da 50 grammi per una lunghezza di circa 150 metri, per il quale consigliamo l'utilizzo o dei ferri 4-5 oppure dell'uncinetto 3-5. Veniamo adesso ai consigli per il lavaggio e il post lavaggio. Consigliamo di lavare la vostra creazione ad una temperatura che non superi 40 gradi. Sconsigliamo di utilizzare l'asciugatrice e quindi ovviamente di riporre la vostra creazione in una posizione piana, lontana da fonti di calore eccessivi. Possibile stirare la vostra creazione ad una temperatura fino ai 150 gradi. Non è possibile candeggiare ma è possibile utilizzare tutti i solventi eccezion fatto il tetra cloretilene. Vediamo adesso però tutti i colori che ci presenta il Genesis. La variante che abbiamo visionato finora è la variante ciliegia. Qui invece notiamo un bell'arancio. Questo invece è l'avio. Passiamo invece adesso alla variante blu. Ovviamente nei colori più scuri la seta è ancora più visibile proprio per questo contrasto bianco e colore scuro. Ma è davvero molto molto bello. Dà un tocco di originalità in più. Questa invece è la variante corda. Un delicato grigio. Un colore immancabile per quest'estate vale a dire il lime. Un colore dei toni più classici vale a dire il naturale. Perfetto per far risaltare l'abbronzatura il rame. E infine il turchese. Tanti colori davvero bellissimi. Ma parliamo un attimo di queste composizioni. Abbiamo detto cotone egiziano vale a dire l'oro bianco dell'Egitto. Un cotone particolarmente pregiato che cresce proprio nelle aree limitrofe al fiume Nilo. Dalle cui piantagioni si ottiene questo filato davvero molto resistente. Molto morbido e dà la fibra lunghissima. Ben mixato poi alla seta. In modo tale che la lavorazione possa essere davvero molto semplice, scorrevole. Già solo parlarne immagini qualcosa di morbido, di pregiato. Bello, bello, bello. Ma non è tutto per questa struttura a fettuccia. Vi permetterà di realizzare delle creazioni molto voluminose. Ma allo stesso tempo molto leggere e perfette da utilizzare anche nei periodi estivi. Infatti è possibile utilizzare il Genesis per capi di abbigliamento dai più grandi ai più piccoli. Finalmente anche questi piccolini potranno circondarsi di morbidezza, freschezza, leggerezza e con un filato davvero molto pregiato. Possibile da lavorare con uncinetti ferri anche più piccoli. E in ultimo, ma non meno importante, 100% made in Italy. Garanzia di qualità Tessiland. Del meglio, insomma. Quindi se anche tu vuoi realizzare una creazione handmade con un filato pregiato, qui sta il Genesis e non te ne pentirai. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi do appuntamento al prossimo articolo. E vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube. Di attivare la campanella così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri articoli. Ci vediamo al prossimo pregiato articolo. Ciao!